Mi ha confermato la solidità della Direzione Nazionale Antimafia che nel momento in cui si accorgono di inadeguatezze del sistema prendono provvedimenti. E questo a maggior ragione conferma l'esigenza di non indebolire né delegittimare come certe dichiarazioni di esponenti della destra hanno cercato di fare il ruolo della Procura. Poi è stata importante anche l'affermazione del Procuratore Nazionale sul fatto che è difficile pensare che Striano possa aver agito individualmente senza una rete. Per questo è interessante che questa cosa venga scoperchiata perché quello che è successo è davvero molto 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 grave per un paese democratico. Poi ci saranno naturalmente le indagini affidate a una persona di valore come il Procuratore di Perugia Raffaele Cantone che sul piano penale faranno la propria strada e saranno un grande contributo di chiarezza certamente.